Io ormai non faccio i tuoi video seri su mio canale Dalla mai costretta a farlo BASC BASCOLIN Attenzione UXI Madonna quanto importa il BASCOLIN BASCOLIN Scherzando ridendo Scherzando ridendo Sto cosa c'ha adattabilità però E allora perchè non vedi mostri tipo acqua Perchè c'ho la choice God God Oh cazzo Tu sei un anello sacrificale Tito sei un anello Sacrificale Vabbè ormai lo dico in live Non fa mai più video seri a quanto pare E' dura Ma perchè hai messo le stealth rock? E tu Perchè hai usato magic coat invece che provare a togliere il sostituto? Perchè non c'avevo mosse che gli togliamo lo sostituto Non avevi mosse d'attacco? No Oh Ciao bel cosa per niente L'unica cosa che posso fare è Questo No no Forza ondo bravo Perchè Perchè dark buzz Così per svegliarlo Per svegliarlo Per svegliarlo giustamente Attenzione Su pokemon tipo aqua Ah si Ops Mb 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 Raga, c'è la persona che paga il bg a Federer e che 5 euro poi chiede il canale Vieni a parto, basta, stradon Ancora, prego Si fissano negli occhi Non avevi bursapelo? No Che merda di set Un libro che resiste Spade dell'Urge Spade dell'Urge Perché continui a resistere con le Stealth Rock? No, perché mi sono confuso, ecco, vaffanculo Alex, mi dicono che sei forte e incompetitivo Stai zitto Poco puso, colperci da solo Cazzo gli ho mando adesso? Boh Ma lui è vero Come direte il perché? Juliolo esplode Non esploderli addosso Oh Oh, Edenpower E' l'erba Pomo tanta erba Attenzione, Carbink La versione beta di Anzi Dai Anzi Attenzione Perché non mi esplode in faccia Perché forse no, la mossa esplode O forse semplicemente non l'ha vista Aaaaa 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 Wiscash Oh Dio Mi sono uccise Non ho mai visto Wiscash in competitivo Eh no, eh O qui Cosa è perché è a Cracondance Quella merda a Cracondance Sì Perché? Non lo so Perché lui ha Cracondance e Calade no Perché? Ste merda E' duro No, no Perché? No, aspetta è grandissimo No, è un gran po' con il cazzo Perché ti sei meglio voluto adesso? Quando è che dovevo mettere a ball per miglietti? Prima, quando ho utilizzato Dark Pass che almeno facevi più danni Eh, scusa, scusa No, mi è stato Hai messo a carine, Rino Brucia Oh, non lo brucia Xingo, stai facendo un video? Sì Bravo Dovete dirlo con la voce d'orgasmo Dovete dirlo con la voce d'orgasmo Bravo Silber, Silber Quanti leggendari hai visto adesso? Zero Uno In questo video Ne vedrai altri tre E' bannato Noob 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 Eh? Landorus è bannato Noob 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 Ma sai cosa ti dico? Ti mando a Shady Penguin i tanti I tanti Non ho tolto questa Cosa? Io tu ti ho tolto questa Noo Noo E' volando Stai chiamando Ma c'è me Noo Ok Spiegatemi sta cosa Un pinguino volante Un pinguino volante Uno non sta volando Due da fa' a cuore Che cazzo è successo? Ma la ma Una domanda al me Ma tu stai mal a mar Quanti cazzo di leggendari c'hai? Quattro E stai perdendo No, no Stai perdendo Stavi, stavi Perdendo con quattro leggendari squadre Di cui uno Bannato da poco Ti rendi conto? Sì, ma quel pinguino di merda Deve scassare il cazzo Lo sai che se Te mandi il mouse sopra Un po' con l'avversario Puoi ottenere un po' di informazioni Tipo su tipo Sì, lo so Lo so Ancora una E ci mincio Sì, ma te nessuno capirai mai La battuta 50 sfumatori di cingling Dato che quel video non potrà mai uscire Ma comunque 50 sfumatori di cingling Mi resterà Bravo E poi boh Pubblicità di manga strane a destra Dove c'è un tizio che dice What are you saying? No woman Has ever been so cruel to me As you have Attenzione Dax Noir Attenzione Cisor Dimmi che è quell'abilità Oh La mega evoluzione Attenzione E faccio l'Arimone Ari Ari, eccomi Ari Man Close Combo Oh, l'ha detto Difesa di un minice Hai fatto una cazzata Anche te hai fatto una cazzata No, aspetta Ho confuso le parti Almex e quello con Cisor Ah, ok Ma, Silver Non avevi tipo protezione? No Che merda Sì Non è che potevo fare niente A te Silver Eh Bastardo Questo è il bastardo Ve lo presento Ma perché Continuo a spammare Pursuit Me lo spieghi? Perché Mi ho ucciso con una roccia Mi spieghi perché Continuo a spammare Pursuit Perché fa figo? No, dai Ma vaffanculo Provano Puzzone Ok, vorrei ascoltare questa mossa No, no Ho sbagliato Ho sbagliato Vabbè Ho sbagliato Perché ho sbagliato Ho miscliccato Misclic Oh, Reuniclus È bellissimo È bellissimo È bellissimo È bellissimo È uno dei migliori Pokémon di quinta generazione Guardate la Sabulti No Lo sai che mi potrebbe mandare giù questo cosa? Questo schifo qua Che merito Però Reuniclus è davvero bello come Pokémon È stato amore a prima visto Guarda Mi manda giù questo schifo qua Sono Vedi Quando registra Porto sfiga a tutti Quando registra Sinco deve fare le figure Le figure di merda Sì, ma non capite quante figure di merda ha fatto fino adesso Almex Io Ma questa Contate che su Quante lotte avete fatto circa Una decina Allora uno, due, tre Non lo volete contare Vabbè Vabbè Probabilmente sono più di dieci lotte Tre sono stati vinti da Almex E quelle tre Due sono stati di culo Esatto Che tozzi stu Porco Dio Un culo Sinco la dovrei bippare questo Se me lo ricordo Perché l'altra volta tipo Vabbè Non so voglio di editare E poi non so manco il suono bip Eh scaricalo Non so voglio Bene Ha vinto Critica Per il critico C'è Ragazzi passate nel mio canale Non la carica Perché adesso Non la carica finché non fa una lotta con me Come No 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 Vabbè No se Jack è che te la chiede da inizio Da quando hai No ok allora Allora raccontiamo con le cose di Jacky Va bene bye bye Da quando è che stai registrando C'è Sto registrando da 12 minuti Vabbè Facciamo il video da un'ora dai Sì da un'ora Grazie Cancella proprio il video dai No 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 Sağol Grazie a tutti.